E' inutile questa polemica perché l'abbiamo sempre pagati, forse non ci rendevamo conto pensando che fossero gratis e adesso senza badare ad altri aumenti tipo gas, luce eccetera, badiamo alla briciola che sta nell'occhio, alla puntina invisibile che abbiamo sempre pagato. La rabbia e la protesta dei clienti, da giorni non si parla d'altro, i sacchetti biodegradabili che dal primo gennaio sono diventati a pagamento. In realtà si tratta di pochi centesimi ma che sono bastati a far accendere innumerevoli polemiche. La nuova legge che riprende una direttiva europea entrata in vigore solamente alcuni giorni fa prevede che i sacchetti di plastica leggeri ed ultraleggeri, cioè quelli utilizzati nei supermercati per immustare frutta, verdura ma anche prodotti freschi come carne e salumi, siano biodegradabili e che vengano pagati dai consumatori. Il costo oscilla dai 2 ai 3 centesimi per sacchetto e per motivi igienico-sanitari non è consentito l'uso di sacchetti diversi da quelli che vengono messi a disposizione nei reparti. Anche io sono tra quelle polemiche, devo dire, però dobbiamo subire queste ulteriori prepotenze. È vero che sono aumentate tantissime altre cose, la luce, il gas, quindi questa forse è quella meno invadente, però è un'ulteriore prepotenza che dobbiamo subire. Se serve per salvare l'ambiente, paghiamo tante soldi di tasse che non si va dove sono, paghiamo 35 euro al giorno per ospitare le persone, un centesimo se serve per tutti noi, serve per il futuro, per i figli, per i figli dei figli. Cosa vuole che sia un centesimo? Se uno andasse a fare la spesa tre volte a settimana e se prendesse tre buste ogni, sarebbero nove centesimi a settimana, moltiplicando per 52 settimane, 9 per 5, 4 euro e mezzo, 4 euro e mezzo all'anno, cosa vuole che sia? Non è questo il problema. Prima di tutto danneggiano chi comunque li fa, perché anche chi li fa non è che li fa, magari c'hanno gli operati, secondo me è sbagliato. Abbiamo vissuto tanti anni con i sacchetti che devono creare questi problemi.